Mister, ci avete provato fino alla fine approfittando anche un po' dallo status mentale dell'Aquila dopo quell'episodio durante il cambio di Panegas? Noi abbiamo cercato di guardare soprattutto a noi stessi dall'inizio alla fine. Diciamo che la partita noi la perdiamo il primo tempo dove subiamo l'iniziativa e la straordinaria qualità dell'Aquila che ha di all'interprete molto forti per questa categoria. Abbiamo commesso dell'ingennità, a mio avviso abbiamo in queste 13 partite sbagliato il primo vero tempo di questo percorso non giocando bene, in gran parte per le grandi qualità dell'Aquila e in una parte per gli errori nostri. La strategia di gara che avevamo preparato prevedeva anche delle cose diverse che non ci sono riuscite e quindi poi dopo è stato difficile recuperare. Fisicamente Mister state bene, lo avete dimostrato anche oggi. Forse a livello tecnico è mancato anche lo spunto del singolo, alcune situazioni dove i passaggi non sono stati così puliti per andare ad impensierire un'Aquila che, ripeto, negli ultimi minuti è calata vistosamente. Ma io lo dico sempre anche ai miei giocatori, se sbagli tecnicamente poi diventa tutto difficile. Noi oggi tecnicamente abbiamo sbagliato tanto più dell'Aquila, che ha un potenziale tecnico probabilmente non solo superiore, non è superiore a tantissime altre squadre, quindi dovevamo compensare con altre situazioni. Nel secondo tempo ci è riuscito e credo che in alcuni tratti della gara avremmo anche meritato di pareggiare. Però poi dopo il primo tempo abbiamo fatto male, quindi bisogna lavorare sugli errori commessi il primo tempo e considerare che stiamo facendo un percorso importante e che ci sta di perdere all'Aquila con una squadra così forte. Mister, l'ultima prima di lasciarla ai colleghi. Lì davanti, anche se mi permette, è una zona che non vi riguarda, chi vede come favorita per le prestazioni effettuate e anche un po' la statistica e i numeri che vengono fuori domenica dopo domenica? Guardi, rischierò di essere banale, però le dico che in questo momento fare una previsione molto specifica è difficile. Credo che chi troverà un po' di continuità in questo momento, io credo che questa è la fase calda del campionato, in questo momento si deciderà chi magari arriverà fino in fondo, insomma, ci sono 4-5 squadre molto attrezzate e credo che la lotta fino alla fine sarà importante. Insomma, noi quando abbiamo incontrato la San Benedettese mi sembra una squadra forte, completa, però poi mi sembra una squadra forte anche l'Aquila, quindi dovrei farti una previsione suffragata da poche informazioni, quindi non te lo so dire.